Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione. Di che cosa si parla oggi? Oggi iniziamo a parlare e completiamo l'argomento relativo all'energia geotermica. Prima di iniziare la video lezione, come al solito alcune raccomandazioni. Prendete il vostro blocco per gli appunti se non l'avete già fatto, segnate le parti, le parole che vi risultano più difficili, i concetti più complessi. Eventualmente fate qualche ricerca di approfondimento, visto che siete al computer e quindi avete la possibilità di collegarvi, siete connessi con internet. E ultima raccomandazione, ponete le vostre domande come commenti all'argomento su Classroom. Come dicevo, si parlerà proprio dell'energia geotermica. Già abbiamo affrontato, avete qualche breve, qualche piccola conoscenza relativa a questo argomento, sia grazie al libro che avete letto durante le vacanze estive, ma anche quando ho parlato, ho fatto la video lezione relativa all'introduzione sulle fonti rinnovabili di energia. Infatti l'energia geotermica è proprio una fonte energetica rinnovabile. Come vedete, il nostro pianeta emette costantemente energia sotto forma di calore. Questo calore deriva dalle zone più profonde e si propaga verso la superficie. Questo si tratta del cosiddetto flusso di calore o flusso geotermico. Abbiamo visto, quando abbiamo parlato dell'energia solare, che il Sole riscalda la superficie terrestre con un flusso di energia molto elevato, che è quasi 6.000 volte superiore a quello prodotto dall'interno della Terra. Tuttavia, questo flusso geotermico è costante e soprattutto continuo. E proprio per questo rappresenta un'importante fonte per il riscaldamento del nostro pianeta. Come vedete, questa mappa concettuale riassume quelli che sono i punti salienti, i punti più importanti dell'energia geotermica. Quindi, che cos'è, quali sono le origini, cosa sono le aree geotermiche e come queste aree geotermiche possono essere sfruttate grazie alle centrali geotermiche. E infine, alcune piccole caratteristiche. Comunque, questi sono tutti gli aspetti che andremo a trattare nella lezione di oggi. Che la Terra diventa più calda scendendo di profondità è sicuramente un fenomeno molto noto ai minatori. Addirittura, in alcune miniere e gallerie molto profonde si raggiungono temperature che sono ai limiti della sopravvivenza umana. Attenzione a non confondere le cose che accadono nelle grotte. Infatti, nelle grotte dove la naturale circolazione dell'aria e dell'acqua abbassa notevolmente la temperatura. Quindi, nelle grotte voi non sentirete caldo, anzi, sentirete freddo, proprio per questa circolazione di aria e anche dell'acqua presente. Infatti, tanto questo, l'aumento della temperatura con la profondità non è praticamente percepito in una grotta. Cosa ben diversa sono nei pozzi o nelle miniere dove questa circolazione non c'è. E a causa dei diversi spessori, come vedete qui, della crosta terrestre e delle diverse anche situazioni geologiche che possono causare la risalita di materiali dalle zone più profonde, si ha il cosiddetto gradiente geotermico, cioè l'aumento di temperatura con la profondità. Quindi, il gradiente geotermico non è altro che un aumento di temperatura che si ha scendendo di profondità. Questo gradiente geotermico non è uguale in tutta la Terra. Possiamo dire che, in media, la temperatura, guardate questa parte qui, aumenta di 2-3 gradi ogni 100 metri di profondità. Ma l'aumento può variare da 1 grado fino a 5 gradi. Naturalmente è tutto relazionato alle caratteristiche geologiche del terreno. Come si misura questo gradiente geotermico? Per misurare il gradiente geotermico si realizzano dei pozzi, che sono profondi oltre 300 metri. All'interno di questi pozzi vengono calati appositi termometri e questi termometri registrano la temperatura alle diverse profondità. Quindi, il flusso di calore è maggiore nelle aree dove... e andiamo all'altra diapositiva. Vi faccio vedere. Ok. Quindi, questo, come dicevo, il flusso di calore è maggiore nelle aree dove lo spessore della litosfera, questa parte qui, è ridotta. E dove abbiamo una riduzione della litosfera, noi? Penso che questi argomenti li avrete sicuramente affrontati in maniera più approfondita a scienze. Sia lungo le dorsali oceaniche, eccole qui, quindi, lungo le dorsali oceaniche, ad esempio, o nelle rift continentali, oppure nelle zone vulcaniche, dove diversi processi geologici che cosa portano? Portano alla fusione delle rocce, o anche in aree dove sono presenti del magma a lento raffreddamento nel sottosuolo, quindi zone che prima erano considerate, erano vere e proprie zone vulcaniche, e con il passare del tempo la zona non è più vulcanica come in passato e si ha un lento raffreddamento di questo magma. Per trovare le aree più adatte allo sfruttamento delle risorse geotermiche si fanno delle indagini che vengono condotte sia in superficie e sia nel sottosuolo. Con queste indagini cosa si cerca di capire? Si cerca di capire un po' come avveniva nella ricerca degli idrocarburi, quelle che sono le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, termiche e anche la capacità produttiva del sistema geotermico, cioè se vale la pena sfruttare questo sistema geotermico oppure no. Dove si trovano queste zone geotermiche? Dobbiamo fare riferimento alla tettonica a zolle. Anche questa parte qui sicuramente la avrete o la farete a scienze. Secondo la tettonica a zolle, la crosta terrestre si divide in una ventina di macro aree che vengono proprio definite zolle. Queste macro aree ogni anno si spostano mediamente da una misura che va dai 0 ai 18 cm e le aree geotermiche più calde del nostro pianeta si trovano generalmente lungo i margini di rottura o di collisione di queste zolle. La rottura di una zolla determina lunghe fessure nella crosta terrestre. Da queste fessure il magba tende a salire. Per esempio le rift islandesi, eccole qui, questa zona. Oppure il sistema del Mar Rosso della Rift Valley, ecco, siamo in questa zona qui. Oppure il lago di Baikal che si dovrebbe trovare in questa zona. Ora qui è difficile identificarlo. La collisione invece di due zolle che cosa provoca? Provoca la compressione e il corrugamento dei margini. Per esempio nelle zolle oceaniche si formano gli archi insulari delle Antille, questa zona. Oppure l'arcipelago del Giappone. Invece nel caso di una zolla oceanica che si scontra con una continentale si formano le cordigliere continentali, come le cordigliere delle Ande. Oppure se le zone sono entrambe continentali, il corrugamento dei margini che cosa porta? Porta alla formazione di catene montuose come le Alpi oppure la catena dell'Himalaya. Importanti aree geotermiche sono anche i cosiddetti punti caldi, come le Hawaii, le Galapagos, le Canarie, ma tra le altre, andiamo a vedere qui, anche la zona tra la Toscana e l'Alto Lazio. Quindi in queste zone sicuramente abbiamo la possibilità di trovare sistemi di tipo geotermico. L'Italia è il paese che, dal punto di vista geotermico, è più caldo dell'Europa. Anche se finora lo sfruttamento delle risorse del nostro paese si sono sviluppate soltanto nella zona centro-settentrionale. Ma ci sono anche altre zone geotermiche che potrebbero essere sfruttate e che allo stato attuale ancora non vengono sfruttate. Quindi la Toscana e quindi anche il Lazio settentrionale sono molto noti per la produzione di energia geotermica ed ospitano le serre. Non so se siete mai stati nella zona di Pianne e Castagnaio. Ci sono queste serre che vengono proprio sfruttate grazie all'energia geotermica, quindi al calore della Terra. Una piccola curiosità. Qui, come vedete, non siamo in Italia, ma siamo in California, negli Stati Uniti. Perché ho messo queste immagini? Perché c'è la centrale più grande dal punto di vista geotermico. E si trova a nord di San Francisco, in California, e riesce a produrre ben 725 MW. Ed è veramente una potenza molto importante. Un'altra curiosità che vi voglio dire, questa qui, è la foto della centrale, si chiama The Geyser. Un'altra piccola curiosità che riguarda la geotermia e soprattutto che riguarda la Toscana. Sicuramente conoscete Orbetello. Proprio ad Orbetello è stato realizzato un importante centro di acquacoltura, dove l'acqua di mare, che è mescolata con l'acqua geotermica ad una temperatura che si aggira intorno ai... varia tra i 17 e i 25 gradi, si sono creati, si è creato proprio un allevamento di branzini, che sono i famosi branzini che trovate alla COP, che sono allevati grazie proprio allo sfruttamento dell'energia geotermica. Tra gli usi del calore, un esempio molto importante a livello europeo è il... non so se l'ho inserito... no, non l'ho inserito in questa immagine... il sistema di riscaldamento urbano della città di Ferrara. Quindi ci troviamo a Ferrara, eccola qui, infatti come vedete è una zona calda dal punto di vista geotermico. E di che cosa si tratta? Si tratta di un impianto di teleriscaldamento che serve oltre 14.000 appartamenti, con l'utilizzo di acqua calda ad una temperatura di circa poco superiore ai 100 gradi. e grazie a questo si riesce a riscaldare in modo assolutamente senza l'impiego di combustibili fossili molti appartamenti, abbiamo visto, presenti in questa città. Andiamo avanti e vediamo un po' di vedere come si è evoluta la geotermia nella storia. Anche questo argomento l'avete sicuramente affrontato leggendo il libro delle vacanze. Possiamo dire che probabilmente le acque geotermiche risalgono al paleolitico superiore, quindi i primi sfruttamenti di questa presenza di acque geotermiche in alcune zone della superficie terrestre. Tuttavia uno sviluppo più terapeutico delle acque geotermiche ha avuto proprio origine in Giappone ed soprattutto per quel che riguarda l'Italia nel periodo romano. Grazie proprio ai romani l'utilizzo delle termali si è diffuso proprio nelle regioni di tutto l'impero romano. Però solo a partire dal Rinascimento, questa è una foto che rappresenta Bagno Vignoni, stavo dicendo proprio a partire dal Rinascimento si iniziano a trattare quelli che sono i fenomeni termali in modo un po' più scientifico e nei secoli successivi iniziano proprio a nascere tantissimi centri termali. Però dal punto di vista, diciamo dal punto di vista dello sviluppo industriale della geotermia, quando abbiamo i primi impieghi di questa importante fonte energetica? Diciamo che una prima tappa è quella del 1827 proprio qui in Toscana nella zona di Larderello. Infatti nel 1827 proprio Francesco Larderello ebbe una brillante idea. Invece di far evaporare le acque bruciando la legna dei boschi che si trovavano nella zona di Larderello, pensò di sfruttare proprio il calore naturale contenuto in queste acque per la produzione di acido borico. Sempre a Larderello, che rappresenta uno dei punti più caldi della nostra penisola, nel 1904 furono accese le prime lampadine sfruttando proprio l'energia geotermica e trasformandola in energia elettrica. Nel 1913 fu costruito il primo impianto industriale proprio per la produzione di elettricità di origine geotermica. Naturalmente la potenza era abbastanza bassa, era di appena 250 kilowatt, però rappresenta il punto di svolta per l'impiego del geotermico in Italia. Infatti proprio da quella data l'Italia è sempre stata leader nella produzione di energia geotermica.